quando ormai era davvero uscito dai radar dell'informazione il delitto gucci un amico mi chiama un giorno e mi dice stiamo per arrestare gli assassini di gucci venerdì 31 gennaio all'alba erano le quattro e mezza del mattino detti il via agli arresti l'arresto di tutti gli imputati avviene simultaneamente non sanno chi è stato arrestato e quando finalmente le indagini si sono rivolte verso di noi e mi sono venuta ad arrestare mi sono sentita liberata perché sapevo che comunque era il mio giusto castigo alle quattro e mezza del mattino erano sotto corso venezia attendere questo arresto che ribaltava completamente tutto quello che si era detto negli anni precedenti raggiunsi l'abitazione della gucci io non pensavo che mi avrebbero beccato a un dato momento sento questo qui che mi bussa la porta e allora io esco con tutti i miei cosini così tipo così e mutandine e dico ma cos'è un'invasione no signora noi siamo qui per arrestarla arrestare me chiesi alla patrizia la signora patrizia reggiani se sapeva il motivo per cui eravamo lì da lei lei rispose in maniera molto fredda sì per l'omicidio di mio marito e allora mia figlia che si era svegliata chiaramente ma mamma cosa è combinato fatti miei aveva indossato tutti i suoi gioielli una pelliccia vistosa vi sia la signora reggiani guardi che lei sarà arrestata e portata in carcere per cui le consiglio gioielli che ha indosso di lasciarle a sua madre anche la pelliccia lei mi disse no i miei gioielli e la mia pelliccia vanno dove vado io salutò le figlie dicendo ci vediamo più tardi arrivo arrivo tra un po restate in casa aspettatemi ero confusa per non dire che ero azzerata